Ciao ragazzi sono Alessandro della Giudici Moto, oggi vi presento un bellissimo Yamaha X-Max 250 immatricurato nel 2015, conservato da un unico proprietario, una curiosità full service Yamaha quindi tutti gli italiani sono stati eseguiti direttamente in casa matte, equipaggiato con paraprezza alto della Givi e la piastra per il pauletto. Vuoi farti un regalo? Vieni a trovarmi in via Bensizza 800 a Cavano Pratosella, ora passiamo alla parola a Francesco e andiamo a vedere il detailing che è stato effettuato su questo scooter. buongiorno ragazzi da Giudici Moto, oggi vi presento questo bellissimo X-Max allora come condizioni direi discrete da curare ma siamo sicuri che da Giudici Moto esce che è pari al nuovo ragazzi poi ciclisticamente è perfetto, come primo step lavaggio, seguitemi per il secondo step ragazzi primo step l'abbiamo eseguito ora non ci rimane che fare una bella lucidatura per il salone ritornerà a brillare lo vedrete al terzo step ciao 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 ciao